Vince il Crotone all'uscita e si consolida nelle squadre di testa, ovviamente in chiave playoff, vittoria importante, una partita difficile contro la Juve Next Gen. Saliamo a 25 punti e adesso ci sarà il Foggia in trasferta, quindi subito altra partita da preparare, però ottimo periodo di forma, grande vittoria, nonostante ovviamente qualche difficoltà, qualche sofferenza, soprattutto poi sulle palle inattive a sfavore abbiamo sofferto abbastanza. Una partita che poi approfondiremo meglio successivamente, andiamo a vedere due fasi di possesso e non possesso, vorrei farvi vedere anche qualche immagine, però purtroppo non è possibile, sarebbe molto più efficace farvi capire quello che vi vado poi a raccontare. Però squadra è fondamentalmente a specchio in entrambe le fasi, sia in fase di possesso che in fase non possesso e Crotone che fin da subito ha provato a fare la partita, come si suol dire, a dominare, ha subito qualche ripartenza, però devo dire gestita bene, bene in riaggressione, bene sulle preventive, quindi abbiamo sofferto poco ripartenze avversarie. Abbiamo poi trovato il gol al 22esimo, un gol meritato, azione nata dal basso, a sinistra, chiusa poi a destra con una grande imbucata di Silva per Guerini che arriva a crossare dal fondo e mette questa palla in mezzo con Pusca che fa autogol e quindi 1-0 per il Crotone. Juve che poi dopo il gol sicuramente prova a reagire, non cambia atteggiamento in non possesso perché hanno leggermente aumentato l'intensità, però l'atteggiamento è rimasto pressoché identico, certamente sono stati un po' più pericolosi con qualche cross da destra, con qualche palla in mezzo, però Crotone che ha, sì, diciamo, lavorato più sotto palla, però poi è stato molto bravo secondo me nel momento migliore della Juventus perché sinceramente il gol è arrivato proprio nel momento in cui la Juve stava premendo di più sull'acceleratore, è arrivato quindi il secondo gol con il gol di Ovisac, grande palla di Silva ancora una volta sul secondo palo, Ovisac di testa anticipa Mulazzi e fa così 2-0. Tra l'altro, poi dopo pochi minuti, altra occasione clamorosa con Tuminello, grandissima azione che sarebbe bello farvi rivedere perché è proprio l'azione chiave di questo, cioè l'azione che ci fa capire proprio come lavora il Crotone in costruzione, azione che porta Tuminello a tirare, diciamo, quasi uno contro uno col portiere, da ottima posizione manata dal basso, con il lavoro di Gomez per la porta, a destra, chiusa poi a sinistra, bellissima azione che sarebbe da far rivedere, ma questo è. Secondo tempo in cui la Juve certamente aumenta l'intensità, trova il gol e devo dire che dopo il gol sono un po' calati loro in termini di ripressioni, hanno lasciato più il Crotone, più l'onere al Crotone di costruire, anche dal basso, Crotone che non si è, diciamo, tirato indietro nel provare a coinvolgere i registi, nel provare a uscire palla a terra. Qualche volta siamo stati costretti giustamente a lanciare in avanti con delle palle lunghe sulle punte, però sicuramente Juve che ha provato a essere un po' più pericolosa, qualche tiro da fuori di Anghelé, un tiro da fuori anche di Papadopoulos quando è entrato, e dall'altro gol che abbiamo preso in maniera evitabile su una palla inattiva, in realtà nasce da un'azione in cui loro verticalizzano alle spalle di Armini, con, mi sembra, Kudrig in quel caso, da Graca, uno dei due, che prova a, diciamo, tagliare le spalle del difensore, poi Armini recupera e mette la palla in angolo, angolo che batte Pushka a rientrare sul primo e di testa segna guerra il gol del 2-1. Tra l'altro, parliamo adesso, visto che poi non ha molto senso, sulle palle inattive, Crotone che ha lavorato a zona, visto che abbiamo sofferto, no? Anche soprattutto nel finale, su qualche calcio di punizione, qualche calcio d'angolo, abbiamo lavorato a zona con questo 1-4-2, quindi 1 sul palo, 4-2 tendenzialmente in linea con Obi-Jak al limite dell'area, e poi Silva e Barberis a fare il 2-2 esterno, mentre sulle punizioni a zona in linea sul limite, come poi anche la Juventus ha lavorato in questa maniera, e Juve che invece sugli angoli ha lavorato a zona con il 5-3, 1 sul palo e il 2-1 esterno. Questo, quantomeno, è quello che ha provato a fare la Juventus con Angelè, che era nel 2-1, e devo dire che hanno, secondo me, possono soffrire molto sul secondo palo loro. Diciamo che tendenzialmente chi marca a zona in quel modo lì lo soffre, però c'era anche stata un'occasione nel primo tempo dove sul secondo palo eravamo arrivati vicino al gol con Cagni e Lutti, quindi potrebbero soffrire abbastanza quella situazione. Finale, come detto, in cui abbiamo rischiato un po', diversi anche i cambi, con Stronati, che in realtà è entrato al 60esimo, al posto di Barberis, poi è entrato anche Vitale, seconda punta e spina esterno-destro, e poi negli ultimi minuti spazio per Groppelli come terzino-sinistro e Cantisani come esterno-sinistro. Quindi approfondiamo un po' le due fasi delle due squadre e, come già vi anticipavo, squadre che hanno lavorato fondamentalmente a specchio, a parte alcuni aspetti, per quanto riguarda, diciamo, la disposizione tattica in entrambe le fasi. Crotone che ha costruito con questo 2-4-1-3, su rimessa dal fondo, come di consueto, 1-4-2, e in costruzione bassa, 2-4-1-3, con Tuminello che lavora qualche metro indietro sulla linea verticale rispetto a Gomez, venendo, diciamo, a giocare incontro, i due esterni tendenzialmente dentro al campo, però poi quando si va a sviluppare sulla metà campo, diciamo che è Ovisac che viene molto dentro al campo per lasciare l'ampiezza a Giron, che lavora molto in ampiezza, spesso nel primo tempo, anche se è alzato sulla linea degli attaccanti, e ovviamente fondamentale in questo caso è Schirò, che deve lavorare in questo spazio in preventiva, perché è il mediano di parte, e dall'altro non solo in preventiva, ma anche in costruzione, lui tende un po' ad aprirsi qui, proprio per sfruttare lo spazio che lascia Giron, che per l'appunto si alza andando sulla linea degli attaccanti. A destra invece sviluppiamo in maniera diversa, perché Silva tendenzialmente è un po' più largo, mentre Guerini si sovrappone, non sempre, diciamo però spesso, e comunque anche lui lavora in ampiezza, a volte internamente, a volte esternamente, però ecco, c'è più una ricerca diversa, uno sviluppo diverso sulle due catene, che è un aspetto molto molto interessante, perché se a sinistra per l'appunto c'è Giron molto in ampiezza, poi Schirò qui e Ovisac che si smarca orizzontalmente, qui abbiamo Silva che parte un po' più largo, che punta l'uomo, rientra sul mancino, e Guerini che prova a creargli il 2 contro 1, comunque sovrapponendosi. E la ricerca quindi è questa qui, tra l'altro si cerca anche diverse volte il cambio gioco sui due esterni, quindi il cambio gioco di un difensore centrale su Silva oppure su Ovisac per isolarli, soprattutto su Silva che ha più qualità nel puntare l'uomo, e quindi si lavora in questa maniera, con i centrocampisti peraltro non piatti, ma fondamentalmente a compasso, perché spesso si abbassava Barberis e Schirò lavorava in questa posizione qui. Quindi diciamo che è una costruzione che abbiamo visto spesso quest'anno da parte del Crotone. Juve che difendeva con questo 4-4-2, in pressione alta si andava a pressare con un baricentro alto, con l'idea di andare uomo contro uomo, ma non pareggiando la costruzione avversaria, perché loro difendevano 4-4-2, ma faticanti, su rimessa dal fondo in particolare, restava davanti alla difesa. Quindi era solo Oviso che andava a prendere l'uomo, poi ovviamente anche per conformazione tattica si andavano a creare delle coppie per natura dei due moduli, come detto si è lavorato a specchio, non per principi di gioco, perché entrambe lavorano a zona, non a uomo, o al massimo a uomo nella zona, ma per l'appunto si sono create le coppie per due moduli uguali. Quindi le due punte che vanno a prendere i centrali, ma schermandoli, non pressandoli, si va più a pressare su pala laterale, con ovviamente l'esterno di parte che parte dentro e poi scivola, e il lavoro a uomo nella zona da parte di difensori lato palla, che aggrediscono in avanti per l'appunto su pala laterale e lato palla, con distanze abbastanza ravvicinate, questo è un po' il principe abbastanza classico. Su un'invessa dal fondo, peraltro, in realtà si va a pressare anche con gli attaccanti, con un attaccante in particolare, è capitato spesso magari Kudrig, che faceva questo movimento a mezzaluna per schermare la linea di passaggio sul nostro centrale di sinistra, che era Armini, e quindi indirizzare così il nostro palleggio da questo lato qui. L'idea era quella, quando fai questo tipo di corse, per indirizzare in un certo modo il nostro palleggio. Però, come detto, questo è il lavoro. In zone basse 4x4x2 in linea, con Dagraka e Guerra davanti stretti, e poi Dagraka sempre riferimento avanzato. Ora vediamo la dinamica opposta, costruzione della Juve, che era costruzione bassa, quindi su rimessa dal fondo, 1-4-2, e tra l'altro loro non sempre costruiscono dal basso coinvolgendo i registi come fa il Crotone, ma spesso lanciano anche lungo su Dagraka, che cerca la spizzata per Guerra, che attacca la profondità, soluzione cercata diverse volte. E in zone più alte di campo si costruisce con questo 2-4-4, come potete anche ben notare, con gli esterni dentro al campo, con Guerra che veniva un po' più incontro, Dagraka riferimento centrale avanzato, e sviluppo sulle due catene, con i terzini che lavorano in ampiezza, e gli esterni che lavorano quasi sempre dentro al campo, pronti magari ad inserirsi in questo mezzo spazio qui verticalmente, quando si va ad affrontare squadre che difendono magari più basso. Però i terzini lavorano dentro al campo, poi a seconda di tanti aspetti si lavora magari più a destra, più a sinistra, certamente ha più gamba Mulazzi, ha più tecnica Puschka, questo per caratteristiche, però ecco l'idea fondamentalmente è quella. E per quanto riguarda diciamo il Crotone, si è lavorato con questo 4-4-2 in zone basse di campo, squadra corta con Gomez e Tominello stretti, poi quando si difende proprio in area di rigore il riferimento avanzato è Gomez, e importante il lavoro da parte degli esterni che ripiegano abbastanza per seguire ovviamente e tenere d'occhio il riferimento che è il terzino, cioè loro lavorano dentro al campo e sono pronti a uscire nei momenti in cui la palla arriva al terzino. Comunque lo tengono tanto d'occhio e questo è sicuramente importante. Tra l'altro è importante che lavori l'aggressione, nel primo tempo spesso l'abbiamo fatto, quello di andare ad aggredire in avanti, quando dominavamo la partita, e per quanto concerne la pressione alta si va uomo su uomo, a differenza loro, uomo su uomo pareggiando la loro costruzione. Comunque giustamente se partono dal portiere, hanno comunque la superiorità numerica per forza di cose, però quantomeno si pareggia diciamo la costruzione con sia Barberis che Schiro che si alzano su palla centrale con distanze abbastanza ravvicinate sui due registi loro e poi nei momenti in cui la palla si va a scaricare lateralmente è il mediano di parte che scivola lato palla seguendo l'uomo, andando quindi con distanze ravvicinate uomo su uomo, e il mediano opposto alla palla che va dentro al campo, quindi non segue l'uomo, ma copre questa zona di campo qui centrale. Questo lo si fa a destra e a sinistra e dipende ovviamente da dove si trova la palla. L'idea di base è questa. Tra l'altro comunque abbiamo pressato anche abbastanza intensamente, soprattutto nel primo tempo. Poi diciamo magari fatti i gol e si è un po' calati, però comunque l'idea è sempre quella. E allora ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!